ho un problema qualsiasi cosa cucino è un biscotto qualsiasi cosa io cucini diventano tutte così una stella questo è un orsacchiotto invece dovrebbe essere questa è un'altra stella questa è un'altra stella ma tutte stelle questa è una stella con la faccina questa un'altra stella guardate che bella questa stella un occhio sì un occhio non lo so perché basta così dai l'ultima stella cinque stelle più di cinque ne ho fatte e queste le fatti tu magari sì col cacao la farina prossima volta vi farò vedere come si fa la ricetta ok faremo un video la prossima volta e sì questa è stata una prova perché l'altra volta ti ricorda che belle queste qua come sempre stelle e certo è ovvio arrivare le stelle noi a rimagnare le stelle ora questa per adesso le abbiamo fatti vedere insomma dopo ce le partiamo chissà se fate i buoni ve le faccio assaggiare la prossima volta faremo un video con la ricetta perché stasera dobbiamo pure testare com'è no ciao a tutti buonissimi avete ricevuto il ciao ciao ciao